allora nello scorso video nello scorso episodio che abbiamo fatto il collegamento qua tutto bellissimo pello modo per capire come fare io gli ho già messo questa slab così non spawno non so apri mob modo per capire come fare la farm di esperienza perché in realtà la carne marcia è sempre cibo e si può mangiare però comunque c'è principalmente di esperienza cioè perché se io c'è tipo io vado qua sopra coro questo lungo tunnel e poi giro a destra e poi ci sono nella mia casa qua c'è questo e posso incantare che tipo qualche abbiamo fatto fortuna 3 vabbè senti io faccio la meglio cosa che mi prendo un po di blocchi che cazzo c'è un po di blocchi un po di questo vado a vedere sopra la cosa numero uno visto che io voglio farla automatica senza che devo stare a spadare tutte volte che voglio fare una roba che io mi metto facciamo esperienze questo muoio da soli fanno come tre sono due c'è questo qua loro prendono danno che voglia fuori da soli poi giustamente per non accumulare tutto nel vuoto che c'è questo vabbè la cesta posso pure fare a posto anzi io per comodità io mi porto pure questo c'è il taglia pietra proviamo a fare così vabbè questi sono blocchi particolari che mi vengono li butto qui qua si cazzi vabbè qua rimane così questa questa parte è off questa parte no possiamo tocca quindi noi vedi che il cervello l'ho comprato al discount allora questa parte è off noi possiamo scavare da qua c'è solo questa parte qua no vabbè scherzo minchia imparo il turco solo per bestemmiarci se si rompe quella cosa la cioè imparo il turco solo per bestemmiarci poco ecco no ma tra l'altro dopo un atto secchio di 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 a la volta e dopo in finita dove gazzo e diventeri zona o le crozie però siccome è cagata parte e mix mi conviene farla pure che cazzo ne so qua boh ma si la faccio è più comodo 1 e 2 ok si chi è e che va beh senti a me solo questa parte serve per per scafare c'è a me solo questo blocco se ve libo per giustamente prendere e allora c'è che c'è io allargo le pareti signori questa si chiama sfiga qua c'è un c'è una crotta vabbè vabbè senti questo ci avvantaggia perché noi non dobbiamo più scavare e possiamo come cazzo si chiama costruire noi quanto cazzo voglia ma è questo lieveva di foglio io orfodio io mando vabbè grazie tanto delle spalle qualcosa senti io tappo salato non sto seguendo tutorial per fare sta roba perché non penso c'è questi devono che c'è devono cadere tutti da una parte poi muoiono c'è john c'è ne che allora io penso che fino a che fino a qua possa bastare allora io ho fatto questo questa stanza però io devo fare in modo che tipo questi spawnano c'è c'è tipo spawnano e vengono portati c'è tipo qua con l'acqua che cazzo ne so c'è tipo loro vengono portati qua con l'acqua è bella per voi così tipo vengono portati qua io mi metto qua e aspetta lì e muoiono questo coso boh io la scala l'ho messa così c'è tipo questo io vengo qua boh mo vediamo allora perché io devo fare che loro vengono tutti verso di me e poi c'è tipo qua io metto una striscia d'acqua con un blocco più in fondo che li porta tutti quanti qua e c'è boh io vado e loro cadono cioè loro cadono dentro un blocco cazzo ne so due blocchi più in profondità e io tipo 33 blocchi più in profondità me ne vado un po più sotto e prendo l'esperienza boh c'è tipo io metterei l'acqua qua loro vengono vabbè l'acqua anche a tutto diciamo è più difficile più fa più facile farlo vedere che il progetto diciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poi loro cadono qua questo è culo aspetta fammi vedere una cosa l'acqua per quanti blocchi scorre 8 modo questo è culo e poi qua e poi qua si scava così loro così loro scendono acqua quanti blocchi sono 1 2 3 5 6 7 8 queste culo signori questo è culo c'è niente da fare era tutto già studiato già calcolato l'acqua praticamente scorre di otto blocchi non so come cazzo è possibile ma questo è culo o tipo mo noi possiamo fare tipo così a posto cioè vedi questo finisce tutto qua e mo praticamente qua si scava di un blocco tipo c'è qua questi vengono qua cioè ottimo c'è una bugia ottimo vabbè voi calcolate solo questo blocco perché questo c'è sarà un blocco c'è un blocco c'è dove io mi piazzerò questo è il blocco dove saranno le scale cioè io rimarrò qua e loro cadranno qua insomma diciamo scala messa c'è così io nella farm io vengo io giusto io vengo con questi con questi due cosi però c'è però io io qua vengo così e vabbè aspetta aspetta mi sa che dobbiamo mettere qua i mezzi blocchi perché sennò spavano pure qua sopra si giustamente ma io posso ricordare allora qua non spavano perché c'è sto coso qua idem cioè vabbè senti se faccio così cioè così non spavano qua qua questa è la zona di cammino ma cazzo sedice allora perché qua ci sarà il campfire come cazzo si chiama il falò qua ci sarà il loper e qua ci sarà la cassa io mi dobbiamo mettere qua immagino aspetta c'è c'è qua più o meno si credo aspetta c'è così così per evitare che loro mi vedano io tipo come tu un blocco cazzo ne so allora tipo c'è questo questo e mo e mo c'è da vedere se io metto questo cazzo ne so se io butto questo qua sopra aspetta me lo ritrovo qua dentro e si e si c'è tipo se io faccio così poi me lo ritrovo nella cassa se a posto era per vedere se le cose passavano attraverso il fuoco qua io ho messo questo corso qua tanto della serie pure se aspetta sì sì perché loro così perché loro vengono qua non è che sono capace non penso siano capaci di saltare per aggapparsi qua per venire da me ma come cazzo ho detto con le torce ma esce è soft io io pensavo dava problemi sto coso perché faceva luce ma no lui mi vede ma lui mi vede sti cazzi ma io ho ho l'esperienza anche no non ho l'esperienza cazzo ma allora è una farmiglia esperienza quindi giustamente li devi ammazzare tu pure lui non ha tutti i torti insomma allora visto che loro saltano cioè perché loro possono saltare e mettersi qua sopra per cazzo ne so che io faccio una bella cosa io qua metto di un blocco più in basso qua che cazzo ne so c'è sta questo qua e chi è qua questo ma giustamente si mette l'acqua se lo vedete un cazzo chiedo scusi in anticipo qua si mette questo così loro non possono saltare manco volendo mo allora qua li ho aumentato questo perché qua cadevano praticamente cadevano sopra di me aspe aspe fammi mettere il blocco sopra se non cadono sopra bugia no no bugia sto coso non lo posso no bugia questo bugia 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 e sti cazzi quelli entrano che palle vabbè comunque funzioni ci piace aspe e se io metto solo questo così io 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 mi abbassi giù 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 eh ma io mo mi domando sta roba se io se io faccio così anche per vedere di più e metto la torcia non sparano più c'è tanto a me le a me arriva tutta l'esperienza comunque qua guarda che cazzo guarda che cazzo sta un lingotto di ferbo questi pure se mezzirotti però ti devo dire ti devo dire infiottare e maleducazione e quindi ti do un bel dieci ma signore la farm di zombie farm di esperienze di zombie funziona vabbè questo non zombie villager ma sti cazzi ma signori un like vabbè qua devo portare una spada del cazzo così così gli spado a cazzo ecco qua sarebbe comodo una spada con ripristino ciao 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 ciao